Ci sono anche quattro istituti scolastici superiori tra quelli a rischio chiusura a Pistoia perché non in regola con le norme antisismiche oltre ai plessi delle elementari che non riapriranno a settembre perché interessati da importanti lavori di messa a norma o per i quali è stata decisa la demolizione come la scuola elementare di Capostrada che presenta forti criticità a livello di fondamenta e anche del tetto. Si tratta del liceo Forteguerri e degli istituti Einaudi, Pacinotti e parte dei geometri lungo il viale Adua. In particolare per la sede storica dell'Einaudi, così come per il Forteguerri, i problemi strutturali erano emersi nel corso degli anni passati. Non solo, il rischio sismico è emerso anche per il Pacinotti e per una parte dei geometri. Sono circa 1.500 i ragazzi che rischiano a settembre di vedere chiusa la sede della loro scuola, studenti che dovranno trovare una nuova collocazione in tempo per ripartire con il percorso di studio. Il presidente della provincia, Luca Marmo, aveva spiegato nelle scorse settimane di attendere le indagini di secondo livello, almeno per il Forteguerri, in modo da verificare se la sede di Corso Gramsci dovrà essere chiusa inderogabilmente oppure no. La stessa attesa sembra esserci anche per altre scuole. Il primo giorno di scuola dell'anno scolastico appena concluso, gli studenti delle scuole superiori della provincia di Pistoia lo dedicarono proprio alla sicurezza nelle scuole, sfilando per la città con striscioni, dove tra l'altro si leggeva a scuola si va per imparare e non per morire, proprio per segnalare lo stato degli edifici lasciati per troppo tempo senza la dovuta manutenzione. Buone notizie invece per il liceo artistico Petrocchi, che a settembre dovrebbe avere a disposizione una nuova sede per la succursale, che dovrebbe trovare posto in via Cino nell'edificio di proprietà della Banca d'Italia. Grazie a tutti.